Buon pomeriggio da Speciale News Web 24, facciamo il punto delle notizie a metà la giornata. Rapina Vinobo, nella villa dell'ex calciatore Marchisio, è stato rapinato insieme alla moglie di tutto quello che c'era in casa, gioielli e orologi, per un valore ancora da quantificare. I carabinieri che stanno analizzando le telecamera di sorveglianza della zona sono sulle tracce dei malviventi. Secondo un quotidiano sportivo, i malviventi di origine italiana dovranno conoscere molto bene il complesso. Per entrare infatti bisogna digitare dei codici numerici e tutelare e sotto controllo da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Incubò per l'ex Miss Iran, Bahrain Bahari, la 31enne, è bloccata da quasi due settimane all'aeroporto internazionale di Manila nelle Filippine per sfuggire alla richiesta di estradizione che Teheran ha emesso nei suoi confronti. La ragazza chiede disperatamente asilo politico nelle Filippine, sostenendo di essere un'attivista politica e di sostenere i diritti delle donne nel suo paese. Le autorità di Teheran non avevano apprezzato la sua comparsa nel concorso di bellezza di un anno fa, durante il quale aveva spilato sotto la bandiera dell'ex monarchia Iraniana. La cronaca adesso, terrore a fuori grotta a Napoli, dove un'auto è piombata sulla polla facendo un po' di danni, si è schiantata sui tavolini di un bar. Un uomo e una donna sono rimasti impariti nell'impatto e hanno raggiunto con mezzi propri il vicino ospedale San Paolo. L'uomo, un residente napoletano ma probabilmente originario di Civitavecchia, è stato bloccato da un'autopattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri. Occupiamoci adesso della vicenda del Tribunale di Lucera, che è stato oggetto di un vertice al Ministero dell'Interno a Roma. Per i dettagli, Anna Ricciardi, Telecattolica. Lo scorso 21 ottobre una delegazione in rappresentanza del Tribunale di Lucera si è recata a Roma per incontrare l'intergruppo parlamentare che si occupa di verificare le situazioni dei vari tribunali soppressi dalla riforma giudiziaria. La delegazione era composta da Giuseppe Agnusdei, Antonio Laronga, Enrico Foglieri, Gianluca Ursitti e Fili Franchino. In occasione della convocazione ci sono state tre audizioni. La prima per il direttivo del Comitato Nazionale dei Tribunali Accorpati, la seconda per il Tribunale di Lucera, la terza per la sezione di Rodi Garganico. La proposta scaturita dalle audizioni della delegazione lucerina è stata quella di avere un atto amministrativo che consenta di svolgere udienze istruttorie civili e penali fin da subito presso le sedi di Lucera e Rodi Garganico, data la penuria di Aule a Foggia, e poi di puntare ad interventi di recupero propriamente normativi. Nell'audizione, dati alla mano, si è fatto presente l'alto tasso di criminalità nella provincia di Foggia, delle difficoltà lavorative del personale giudiziario, dell'inadeguatezza degli spazi del Tribunale Foggiano e dell'allungamento della durata dei processi. I politici hanno mostrato la volontà di mettere mano alla riforma giudiziaria e il prossimo passo per il Ministero della Giustizia sarà proprio effettuare sopralluoghi nelle zone dei tribunali soppressi. In chiusura alla pagina sportiva, il calcio è cominciato il turno infrasettimanale del campionato di Serie A che ha visto ieri due anticipi. Importante per l'Inter di Antonio Conte che è andato a vincere sul terreno del Brescia per 2-1, mentre il Verona ha fatto il colpo grosso vincendo al Tardini 1-0 contro il Parma. Stasera l'attesa è per il Napoli che alle 19 affronta l'Atalanta. Dalle 21 in contemporanea le altre partite, Cagliari-Bologna, Lazio-Torino, Sassuolo-Viorentina, Juventus-Genoa, Udinese-Roma e Sampdoria-Lecce. Il tutto poi si concluderà domani sera con la sfida tra Milan e Spalla. È tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento come sempre con Prima Serata, questa sera a più tardi. Grazie a tutti.